Per uscire meglio da una crisi, il principio di sussidiarietà deve essere attuato rispettando l'autonomia e la capacità d'iniziativa di tutti. Ciascuno deve avere la possibilità di assumere la propria responsabilità nei processi di guarigione della società, di cui fa parte. Oggi questa mancanza di rispetto del principio di sussidiarietà si è diffussa come un virus. Si ascoltano di più le grandi compagnie finanziarie anziché la gente, si ascoltano più le grandi compagnie farmaceutiche che gli operatori sanitari, si ascoltano più i potenti che i deboli. E questo non è il cammino. O lavoriamo insieme per uscire dalla crisi tutti i livelli della società o non usciremo mai. Attuare il principio di sussidiarietà dà speranza, dà speranza in un futuro più sano, in un futuro più giusto. E questo futuro lo costruiamo insieme o insieme o non funziona.